Ciao a tutti i fan di Meraviglia e indovinate un po' è di nuovo luna di notte E niente, oggi sono qui per farvi vedere una scatola piena di stronzate inutili che mi ha inviato il sito Banggood, il mio sito di stronzate preferite che praticamente ogni volta mi rifornisce e sono contentissima Allora, prima di tutto voglio dire che questa maglietta che sto indossando mi ha inviato una linea di vestiti che si chiama Color King che è veramente top, bellissimo Questa specie di croppe toppe però di velpa, cioè bellissimo su Instagram si chiama Color King Official ma fighissimo andatelo a vedere E niente, oggi vi faccio vedere cosa ha inviato il sito Banggood Allora, sono felicissima perché finalmente questa volta sono riuscita a farmi inviare e ho inviato un po' un cavalletto che per l'interesse lo sto usando perché dovete sapere sì che io alla veneranda età di quasi 300.000 iscritti non avevo un cavalletto ho detto basta, io mi vergognavo quando dovevo fare le collaborazioni con gli altri youtuber io li vedevo tutti i professionali, tutti con le super telecamere io non avevo manco un cavalletto e allora faccio tipo no, basta e quindi adesso ho un cavalletto però tipo, ora vi racconterò una storia strana non so se ve l'ho già detto però praticamente prima ci stava una di Banggood che mi inviava tutto ogni cosa che gli chiedevo lei me lo inviava e va bene dopo un po' tipo, io gli ho scritto con la mamma ha tipo risposto che tipo si era rotta il braccio mi ha tipo raccontato la storia della sua vita sul fatto che gli si era rotto il braccio e praticamente doveva stare a letto tre mesi perché il medico la doveva operare e doveva mettersi i punti cioè tutte cose di cui ho detto sì ok ma perché me lo stai dicendo cioè mi dispiace e quindi questa sedata è arrivata un'altra di Banggood che era molto più pignola e non mi faceva prendere le cose nella sezione elettronica e quindi praticamente io volevo sto cazzo di cavalletto ma non me lo inviavi cioè no, non posso e allora praticamente quando mi hanno richiesto la collaborazione gli ho detto così io te l'ho certo se mi invio le cose di elettronica e l'ho fatto va bene però ne devi prendere poche che costano poco e ho fatto va bene e quindi mi sono fatta inviare sto cazzo di cavalletto che in realtà fa cagare perché è traballante e ci sono tipo dei gancetti dove ci stanno due, due, due solo che due sono giusti ma uno è tipo uno è tipo tutto attorcigliato storta all'inizio era proprio stortissima e ho dovuto raddrizzarlo e quindi è un po' una merda cioè non prendetelo se volete fare i professionali io adesso sono arrivata al culmine della mia professionalità e quindi lo accetto per quello che è poi questa volta mi sono data le luci ho detto voglio le luci quindi ho preso queste lucine di Natale se si può dire ma aspetta non ve le collego e praticamente sono così e poi ci sono varie modalità potete farle tipo così un po' così che cambiano così che sono pazze avete tutte le opzioni di cui avete bisogno e mi mettete così a fare oh la loccia anche niente non so dove le metterò insomma poi ho preso queste che sono altre luci che praticamente dovrebbero essere così tipo dei funghetti cioè che tipo è da aperte c'è questa presa per il culo quindi ancora non l'ho provata perché non ho l'adattatore poi c'è fanno schifo sempre tipo l'hanno incollato dopo poi qui c'era tipo un pezzo dei scotch secondo me qualcuno questo l'ha comprato ha detto ma che schifo l'ha rimesso nella scatola poi sentite cioè perché fa questo rumore e poi ci sono questi fiori che tipo tu inserisci per modificare questi sono tipo una luce e io spero di riuscire a farvela vedere insomma se no se resteremo nel dubbio per sempre poi sempre per il fattore luce ho preso questo che praticamente è una luce che in teoria dovresti mettere nel cesso per fare il cesso colorato però non capisco il senso perché tipo io ho provato a metterlo però se tipo alzo la tavoletta non succede niente cioè non si accende oppure rimane acceso per ore non si capisce niente non so come si usa poi se premi cose non capisco la funzionalità non capisco niente c'erano tipo le istruzioni che spiegano tutte le modalità ma io che sbatticiò di impararmi tutte queste cose ma poi ho paura che tipo poi tutti ci pisciano sopra e quindi non penso sia carino e poi non ho capito come si spegne cioè adesso resterà qui acceso per mezz'ora vedete questo coso non ha minimamente senso va a caso però cioè guardate quanto è figo così è bellissimo però se solo cioè avesse senso non facesse così a caso in eterno oh vabbè non so come si usa poi ho preso questo coso che praticamente ha un calendario che invece è questo qua perché io l'avevo appeso però mi si è scolato perché il nastro isolante non vale niente praticamente è una figata perché praticamente qua ci stanno lo spettate qua ci stanno i nomi dei mesi e qui stanno tutti i giorni e ogni giorno tu fai così col dito e vedi una cosa che è successa durante quel giorno della storia è fichissimo è veramente carino il problema è che a me mi si è staccato quindi niente io l'avevo appeso con tanto amore e niente però sì praticamente tu strofini a calore e ogni giorno ti dice cosa è successo quel giorno della storia è wow veramente fichissimo poi ho preso questa che è una semplice scheda micro sd perché non avevo una misera rotta però ho detto vabbè me ne faccio invia una e ciao che è carina perché ci ha disegnato uno squalo poi ho preso questa che praticamente è una penna telecamera io questa la osservavo su quel sito da veramente mesi ma dicono che registra in hd e dove cazzo si registra ma questa è una penna vera sì o questa è una penna vera ah no c'è già la memoria top c'è già dentro la memoria e dove è che ah da qua ma mi sa che sta già registrando oh mio dio oh mio dio sto registrando se sto registrando qui c'è tipo il filo per ricaricarla e per vedere le foto immagino qui ci sono le istruzioni ma c'è tutto internatamente in cinese non lo so però secondo me sta cosa è una figata e la voglio assolutamente provare c'è una penna telecamera fichissimo ci faccio i vlog tipo oh raga ciao poi ho preso questo che è tipo un coso cioè ci sta sto coso e poi ci sta questo questo coso giallo che tipo glielo devi mettere e vomita io ho paura di aprire sto coso raga guardate che schifo ma raga che schifo ma come cazzo glielo faccio a mettere in bocca ma sta tipo di igienizzante al limone sto coso dai entro questa scena è penosa dai ma forse devo io a ferragosto sono impegno ma sta entrando o no che schifo mi sto andando sul dito no senti ti ci infilo io ti prego ah bastava fare così sono una rincognita tu prendi e fai così fa ma è divertentissimo è un seno però faride no no va bene e questo coso mi piace poi ho preso questo che è tipo un cesso che se ci metti l'acqua non ho capito ti spruzza l'acqua in faccia non lo so una gag o qualcosa tu devi mettere l'acqua qua sotto e poi quando l'apri te lo spruzza in faccia divertentissimo però guardate che carino c'è una cacca una cacchina che ti sputa l'acqua che carino infine l'ultima cosa che ho preso è questo che è un ombrello fanculo ovviamente si è un ombrello che se tu lo apri c'è un vaffanculo enorme non so se riuscite a vedere la vastità del vaffanculo ma si è un vaffanculo enorme mi fa troppo ridere questo ombrello quindi non potevo non prenderlo e niente io credo sia tutto squicolo che mi ha inviato il sito e tutti i link a questi fantastici prodotti ve li lascio giù nell'info box sono felice delle mie stronzatine e niente spero che questo video vi sia piaciuto e ciao a un